Ecco un errore che stai commettendo nell'addestramento del tuo cane di cui non ne sei consapevole. Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Puccio, sono un dog trainer e aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il proprio amico a quattro zappe. Oggi, in questo video un po' più tecnico, ti mostrerò un errore che stai commettendo nell'addestramento del tuo cane. L'errore principale è quello di tenere il cibo in mano in questo modo, questo è un errore che non dovresti fare. Viceversa, lo snack porta ricompensa dovrebbe essere posto dietro i tuoi pantaloni, neanche a destra o a sinistra. Questo per non abituare il cane ad avere l'aspettativa di ricevere la ricompensa sempre dalla stessa parte. Sempre per il concetto di evitare di creare nel cane l'aspettativa di ricevere la ricompensa sempre dalla stessa parte, quello che dovresti fare è una volta andare a ricompensare da destra quella che è l'esecuzione corretta dell'esercizio, delle volte andare a ricompensare da sinistra, quindi senza mai tenere uno schema ben specifico. Questo perché non dobbiamo appunto andare a creare quelle che sono delle aspettative da parte del cane, per evitare che anticipi il comportamento e che addirittura vada a sporcare il comportamento nella eccessiva desiderio di raggiungere la ricompensa. Un altro errore che non dovresti fare appunto è quello di tenere la ricompensa in mano, perché anche questo potrebbe andare a creare un'esecuzione sbagliata di quello che è il comportamento. E per ultimo quello che potresti anche fare è non andare a derogare sempre il cibo dalla tua mano in questo modo, ma potresti anche lanciare il cibo al cane per andare a creare anche un feedback diverso rispetto all'erogazione delle ricompensi, come in questo modo. Fammi sapere nei commenti se conoscevi questo metodo di lavoro, ricorda di seguirmi e di lasciarmi un like.